Sì, penso che sia una grande opportunità. Io voglio ringraziare anche i cittadini della mia città perché sono in calo i contagi, quindi vuol dire che sono stati molto attenti in questi ultimi dieci giorni. Quindi occorre però fare questo tampone di massa per capire se e quanti sono diciamo coloro che potrebbero infettare altre persone e che invece se sono contagiati devono stare a casa e poter evitare di fare altri ricoveri ospedalieri di altri defunti e così via. Quindi dal 16 al 21 in tutta quell'area al Palavitri che è a fianco al campo sportivo e alla scuola in via Guidi numero 3 è importante perché Vallefoglia, Montalabate, Petriano, Monte Calvo e la parte bassa del comune di Tavuglia possono fare, io spero tutti o comunque gran parte dei cittadini che vanno a fare il tampone e ci aiutano a evitare che si allarghi il contagio. Devo dire che la gente ultimamente sta attenta, ovviamente tutti aspettiamo che dopo i tamponi di massa arrivi il vaccino e in questa competizione fra coloro che producono i vaccini speriamo di poter fare tutto il vaccino entro la fine dell'estate e non entro l'anno e questo è auspicabile perché dobbiamo riprendere tutti a lavorare, noi puntiamo alla piena occupazione benessere e salute, la salute viene sempre al primo posto e però se c'è lavoro c'è anche la salute e viceversa quindi l'appello che faccio è che veramente vadano tutti in massa dal mattino alle 8, alle 13, pomeriggio e sera e l'ultimo giorno fino alle 13, il 21 che è l'ultimo giorno utile. È uno strumento molto efficace da questo punto di vista qui per identificare le persone che sono portatori del virus però sono asintomatici e in qualche modo limitare la diffusione dell'infezione. Noi ci auguriamo che ci sia una forte partecipazione da parte della popolazione perché comunque è un senso di responsabilità nei confronti di tutta la comunità. Abbiamo cercato di favorire al massimo anche l'organizzazione proprio per evitare il disagio ai cittadini e a questa iniziativa collaborano appunto anche molte delle associazioni di volontariato del nostro territorio. L'importante ecco è che come ho avuto occasione di ribadire anche in altri casi nel momento in cui l'esito sia negativo questo comunque non porti ad allentare tutte quelle che sono le precauzioni che invece comunque vanno messe in atto per evitare di diffondersi dell'infezione perché la negatività comunque è limitata al momento in cui si fa l'esame e quindi comunque va continuato nel tempo a mantenere tutte le precauzioni possibili.